prima parliamo dalla cosa più importante ovvero la vittoria arrivata dopo tante rimonte ripenso quella del primo set ripenso a quella di monza che è stata poi nel nel quarto dove siamo stati bravi però a reagire insomma le partite saranno tutte così è una finale loro hanno dimostrato il loro valore già in tutto il mese scorso vincendo i quarti a civita nova vincendo la semifinale a trento essendo solo 2 a 0 insomma non siamo noi che li scopriamo adesso essere una squadra che fatta di grandi giocatori che giocano da anni a livello internazionale quindi sono giocatori che non mollano mai come lo siamo noi siamo cerchiamo di tutto l'anno che ci alleniamo per giocare il punto punto e questa serie qua sarà così perché tutti tutte le tutte le partite saranno così non ci sarà non ci saranno set facili mi dispiace un po per il quarto set perché secondo me lì qualcosa di nostro ce l'abbiamo messo perché insomma abbiamo fatto tre quattro attacchi di fila fuori e loro insomma lì erano un po così così poi dopo ovviamente come avete visto in un secondo sono grandissimi giocatori e recuperano e quindi poi c'è stato bisogno dell'ingresso di leo che è stato veramente bravo è fondamentale col break con l'attacco e anche di sieva che subito entrato ha fatto un tocco buono è un attacco importantissimo quindi questo è anche sinonimo di squadra come ho già detto dobbiamo andare avanti così perché servono tutti quanti per questa finale perché è questa squadra veramente forte quindi come ti ho già detto in tutte le altre partite dei playoff abbiamo vinto va bene adesso c'è gara 2 questo qua non serve più niente grazie grazie Simo